Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Wesaplay, incredibile, un vlog su questo canale, parliamo ovviamente di Death Stranding, il lavoro di Kojima che sta per uscire, che uscirà venerdì, e devo dire che non ci avevo guardato, non avevo visto che l'8 di novembre era un venerdì, io il weekend non ci sono, quindi noi lo giocheremo in live su Twitch lunedì. Parliamo prima di tutto della programmazione, come va a cambiare, l'ho già detto su Twitch ma lo dico qui che magari più persone ascoltano, Death Stranding sarà implementato il lunedì e il mercoledì, e la programmazione passerà da tre live settimanali a quattro, quattro soltanto finché il gioco di Kojima e Steins Gate saranno sovrapposti. Quindi finché questi due giochi sono portati contemporaneamente avremo lunedì e mercoledì, ore 14.30, a partire da lunedì prossimo, Death Stranding e martedì e giovedì, martedì è la novità, provvisoria, martedì e giovedì 14.30, Steins Gate che si è rivelata un'opera abnorme perché abbiamo scoperto, ho scoperto che portare una visual novel su Twitch significa dilatarne incredibilmente i tempi, perché giustamente la devi leggere, la devi tradurre, la commenti, però devo dire che ne sta valendo la pena, Steins Gate ci sta ripagando e quindi bene così e andremo avanti ovviamente finché non lo finiamo. Che cosa volevo dire? Death Stranding invece non è che ci sia un'idea necessaria da blind run, la mia idea è che un gioco la blind run se la deve guadagnare, cioè se Death Stranding mi esalta e ci esalta e ci piace e ne vale la pena e adatto e bla bla bla, si fa una blind run, se ci rompiamo il cazzo, anzi non userò il plurale, se mi rompo le balle e dopo un po' lo molliamo, o magari me lo gioco per i cazzi miei, sicuramente lo iniziamo, andiamo avanti un bel po' di ore e qualche settimana gliela diamo di live per cercare di capire se ne vale la pena. Io sono un videogiocatore che si rompe le balle molto facilmente, però al tempo stesso sono un videogiocatore che apprezza tantissimo le opere autoriali, anzi mi rompo le balle delle altre di solito. Quindi se considerate che Nier Automata, nonostante un gameplay che per giudicarlo bene ci vuole una manica larga del giudizio che lasciamo perdere, Nier Automata è uno dei giochi che amo di più in assoluto, uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi, Death Stranding ha tutte le carte in regola in realtà per accalappiarmi magari nonostante qualche, oh mio Dio schiatto, qualche parte un pochino più farraginosa. Se la dico così perché come molti di voi non ho avuto nessuna esperienza con il gioco prima del lancio, non faccio parte di quel club di privilegiati maledetti, ma ho letto un sacco di recensioni, una marea di recensioni e ho visto qualche video eccetera, diciamo che un'idea ce la siamo un po' fatta prima di giocarci, non va bene, non bisogna dirlo che ne sai, prima lo devi provare, però sembra che il gioco abbia problemi di ritmo, c'è una bellissima narrazione, cutscene fantastiche, si spera una narrazione molto stratificata e profonda densa di significati, chi di dovere ha tirato fuori parallelismi con Sons of Liberty, quindi wow, al tempo stesso pare che incappi in delle sessioni di gameplay che possono durare anche molto, piuttosto ripetitive, non per tutti sapete questa frase che si dice in questi casi, boh, non so, non so cosa aspettano, non so se saranno così infinitamente, immensamente una rottura di coglioni da farmelo droppare, non credo, magari da farci dire, magari insieme alla chat discutere e convenire che magari non è un gioco da Twitch, boh, lo vedremo, lo scopriremo solo vivendo, di sicuro è un gioco nel quale non andrebbero trascurate le side quest, non lo facemmo, devo dire, all'epoca di nera automata, non c'è motivo, io sto a morire, non c'è motivo di pensare che debba essere peggio, o forse sì, vedremo, in ogni caso, così, un po' di preoccupazione c'è, io normalmente sono quel tipo di giocatore che se mi annunci tra l'altro folli, questa è la cosa in assoluto del lancio di, così, della campagna, no, di montaggio dell'attesa delle aspettative di Death Stranding, la cosa che ho capito di meno è Kojima che dichiara che quest'estate uscirà la versione PC, cioè va bene, come videogiocatore mi hai fatto un servizio, tanti ragazzi mi hanno scritto, comprerò la PlayStation 4 solo per Death Stranding, immagino abbiano anche fatto in tempo a cambiare opinione, quindi massimo candore e trasparenza, però che cazzo me lo dici prima del lancio, cioè, normalmente, io sarei uno di quei videogiocatori che, nel momento in cui sai che esce per PC fra dei mesi, aspetto con grande calma, ma ho deciso, consciamente, di salire sul treno del hype, mettiamoci la H, per Kojima, per quello che questo gioco rappresenta, per l'importanza che secondo me ha, comprarlo al day one, con tutte le puttanate che compriamo, con tutti i soldi che buttiamo nel cesso, possiamo anche comprare un gioco di Kojima al day one, che facciamo, penso e spero, un favore al movimento, non mi riferisco all'industria, tengo questa dicotomia, movimento videoludico, industria videoludica, mi interessa il movimento videoludico, l'idea di un'autorealità tripla A, che questo gioco, con i suoi limiti, potrebbe incarnare, poi con i suoi limiti, magari è un capolavoro di Dio, ce lo scopriremo, nonostante i suoi limiti che ci saranno, senz'altro. Per quanto ho letto anche recensioni che spiegavano come sì, esiste una ripetitività nel fare queste missioni da corriere, ma in realtà è molto appagante l'ottimizzazione e tutto quanto, insomma, da Kojima non mi aspetto un gameplay brutto, magari una forma di ripetitività, magari nel momento in cui sei conscio che non devi schippare le sidequests, se davvero ti interessa la lore, vai a dilatare moltissimo il ritorno delle cutscene nell'esperienza di gioco, e questo può essere un po' una palla, staremo a vedere. In ogni caso, vi ho detto la programmazione, le aspettative sono quelle che abbiamo tutti, perché tutti abbiamo letto le recensioni, che in realtà hanno una grande coerenza, indipendentemente dal voto, che è una cosa ridicola, che viene apposto alla fine, c'è una certa coerenza, ho visto nei giudizi, c'è recensioni che danno tre, recensioni che danno nove, in realtà dicono praticamente le stesse cose, poi tu riesci un pochino a vedere tra le righe, più o meno la personalità e il tipo di videogiocatore che è il recensore, ma insomma filtrando un'idea ce la siamo fatta. Spero che sia un'esperienza valida, spero che sia il gioco importante che credo che sarà, di sicuro forse, non dovrebbe essere un gioco irrilevante, ecco almeno questo, dovrebbe essere un gioco che ti lascia qualcosa, che ti cresce dentro, speriamo, speriamo che sia così, l'idea di un gioco che riprende, sviluppa le tematiche di Sons of Liberty in qualche modo, o che ritorna in quel legame con Gima Evangelion, potrebbe essere la figata di Dio, ovviamente, c'è il discorso che l'abbiamo detto, l'ho detto immediatamente durante il trailer che abbiamo visto insieme in diretta, c'è un gioco palesemente anti-Trump, e infatti la cosa è stata poi anche dichiarata in questi giorni e notata da molti, il discorso delle connessioni che va contro i muri, l'unione contro le divisioni, anche in relazione a Brexit in qualche modo, tutte cose che ho letto in questi giorni, stiamo a vedere, che dire, non si può dire nulla del gioco prima di averlo giocato, questa è la realtà, sembra già un'opera divisiva, questo in realtà a me piace, mi va molto a genio, perché se un'opera è divisiva, se un'opera non è per tutti, ci sono delle buone chance, considerando l'autore, che sia un'opera selettiva, verso l'alto, e questo è quello che io spero, cioè che sia un'opera che, come dire, per usare il francese, che scoreggia via i giocatori superficiali, e che invece accalappia ed affascina i giocatori un po' più adulti, un po' più maturi, che non hanno voglia della solita puttanata, e che cercano qualcosa di denso, speriamo, speriamo che sia così, o magari scoprirò di essere un giocatore superficiale che non ha voglia di farsi queste eterne camminate, spintonando i muli, come abbiamo visto nei trailer, in realtà leggevo che una cosa un po' alla Metal Gear che apprendi è che all'inizio sei tutto timoroso, poi scopri che in realtà il tuo buon avatar, come cazzo si chiama, in realtà è una macchina della morte, e non lo ferma nessuno, più o meno ho capito che dovrebbe essere un po' questa l'idea. Stiamo a vedere, una cosa che mi va a genio, e che per alcuni magari è respingente, invece a me va molto a genio, soprattutto in questo periodo, pare che il gioco sia molto facile, che non costituisca una sfida, grazie Dio, io non ho nessuna voglia di impantanarmi, qua il pantano sembra proprio un tema coerente con quello che abbiamo visto, non ho nessuna voglia di impantanarmi in boss fight per giorni o ore, non me ne frega assolutamente una fava, è il motivo per cui ho mollato Sekiro, beh Sekiro non aveva neanche nient'altro oltre al gameplay, sono ben contento, non so se metterò veri, super easy come il livello di difficoltà, ma potrebbe anche essere, perché quello che mi interessa è assaporare l'opera nel suo significato, in realtà metterò normal perché comunque andare sotto livello vuol dire in realtà falsare il gioco verso il facile, che è una cosa da non fare, lo giocheremo a normal. Un'altra cosa, a proposito di quello di cui si è discusso in questi giorni, che non riguarda direttamente Death Stranding, un'altra cosa è l'annuncio di Kojima Production, un annuncio comunque ha lasciato intendere molto chiaramente, che si occuperanno di cinema in futuro, che l'idea è quella di spostarsi, forse addirittura sul cinema, abbandonare o meno i videogiochi, boh, forse meno problematica da un punto di vista produttivo, forse il fatto di iniziare ad avere dei contatti, dei legami importanti nel mondo del cinema, forse in realtà Kojima è davvero, come i suoi critici lo accusano di essere un regista wannabe che si è dovuto accontentare di fare videogiochi, ma che in realtà sognava di fare cinema. In ogni caso, se Kojima Production e se il genio di questo autore sarà dedicato al cinema e non più ai videogiochi in futuro, è una grandissima sconfitta per il medium videoludico. Io l'ho letta molto come una brutta notizia. Se il mondo dei videogiochi perde Kojima come autore, come un po' il Tarantino, anche per il controverso, eccetera, perde tantissimo, perde veramente tanto. È una cosa che può rispedire indietro, da un punto di vista della maturità, il movimento videoludico. Perché certo, nella scena indipendente è sempre delle cose fighissime, ma ricordiamoci che è molto importante quello che emerge agli occhi di tutti. Adesso abbiamo questo gioco di cui si è parlato tanto, anche in siti tutti importanti, eccetera. Insomma, sembra un gioco che può sfondare un pochino il muro, no? A proposito. Ma se poi Kojima ci viene a dire che gliela da su... Perché prima ha detto voglio fare una serie di giochi di questo genere per dimostrare che è un nuovo genere. Non è che emerga tanto da quello che si è visto, un nuovo genere. Ok. E poi faremo film. Contraddittorio. Saranno forse vere entrambe le cose. Forse farà tutte e due. Allora benvenga. Bene così. Però ho molta paura. Ho molta paura di un Kojima che in realtà abbandona il medium per darsi soltanto alla narrazione cinematografica, che è sempre stata solo una parte della sua produzione. E Kojima è stato un grandissimo innovatore da un punto di vista del gameplay, di meccaniche ludiche, uno dei grandi nomi, dei più importanti nomi della storia dei videogiochi anche se togli tutte le cutscene. E questa è la cosa importante e grandiosa di questo autore. L'idea che questo Death Stranding forse non sia eccellente o comunque così stratificato da un punto di vista del gameplay. Questa dichiarazione, andiamo a fare film. Accidenti, accidenti, accidenti. Mi viene da ripensare in retrospettiva a quel terrificante divorzio con Konami, a quel che poteva essere Metal Gear Solid V. Non lo so, stiamo a vedere. Dico così perché non vedo un nuovo Kojima all'orizzonte. Non dico come genialità, sono autori anche migliori, ma non vedo un nuovo Kojima nel senso di a quel livello lì, a quel livello di accesso di risorse, con tutta la fatica che abbiamo visto testimoniata che ha fatto, c'è accesso di risorse, hai voglia, hai fatto un culo come una capanna per riuscire a mettere insieme questo gioco, ma se ti devo dire il prossimo Kojima faccio fatica. Non voglio non voglio dover pensare a videogiochi che chiamiamo autoriali solo perché scimmiottano il linguaggio commerciale di Hollywood. Non voglio dover pensare a videogiochi che chiamiamo autoriali solo perché sono mezzi film quando in realtà se fossero film servono delle merdate che nessuno prenderebbe in considerazione. Kojima è un'altra cosa. Ha un coraggio nel suo linguaggio, nei suoi contenuti, nel suo modo di esprimerli che è quella la sua autorialità non è mica perché ti mette le cazze in con gli attori veri che è un autore, ok? E quindi non lo so, ma stiamo a vedere innanzitutto com'è ci vediamo lunedì 11 lunedì 11 alle 14.30 iniziamo Death Stranding. A quel punto lì tutti voi avrete già visto come inizia, gran parte di quelli che saranno interessati l'avranno già giocato, così non avrete grandi rischi perché sarò sempre molte ore indietro rispetto a voi. Per quanto riguarda la blind di Sabaku che per chi come me ama molto il nostro creator preferito, almeno il mio creator preferito, non so che cosa fare. Sicuramente non guarderò nulla fino a lunedì, mio Dio, non so come riuscirò, mio Dio, non so, non lo so, non so come farò a non guardare la blind di Sabaku fino a lunedì e poi andrò un pochino avanti con il gioco e poi magari cercando spannometricamente di tenermi un po' di ore avanti rispetto a lui magari due settimane dopo inizierò a guardare la blind, non so se ce la faccio, però ci provo. Sicuramente lunedì sarò blind totale, su questo non c'è dubbio. Vediamo quanto resisto senza guardare quella di Michele. e basta, ci vediamo su Twitch come al solito. State bene ragazzi, vi mando un abbraccione. Ciao!